Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Dalla scorsa settimana, sulla linea 3 dell'Atac, nel tratto tra Valle Giulia e Piramide, sono tornati tram. Il servizio, che per sette anni è stato effettuato sui bus, viene ora garantito con Jumbo Tram, che hanno una capienza da 240 a 295 posti. Da Piramide alla stazione di Trastevere continuano invece a funzionare i bus della linea 3B. Con la reattivazione del Tram 3 è cambiata anche la viabilità nella zona tra Porta Maggiore e Piazza San Giovanni. Ora via Carlo Felice è percorribile dal traffico privato solo lungo le carreggiate laterali alla corsia dei tram, mentre via Statilia è tornata percorribile verso via Emanuele Filiberto. Infine, chi ha deciso di versare l'Imo in tre rate deve, entro il 17 settembre, pagare la seconda rata. Ricordiamo che Roma Capitale ha deliberato che l'alicota per la prima casa è al 5 per 1000. con detrazione di 200 euro dal totale annuale dell'imposta dovuta.